No, no, mi stai picchiando forse? Cosa staresti facendo? Sì, allora... Sono stra-eccitato, mamma mia Sei eccitato per cosa? Forse perché dobbiamo fare gli scherzi a Gabri, eh? Proprio per quello, mamma mia Ah, però attenzione, fermo, fermo, fermo Perché se ci vieni qua, vieni qua Se ci vede volare... Ah, giusto, giusto No, basta! Ma sei impazzito completamente tu Sei fuori di testa Allora adesso cerchiamo di andare da questa parte Anzi, io mi tipperei da Gabri Non so dove sei Eh, non so, tippiamoci da Gabri Perché se no, non capiamo niente Allora io ho detto a Gabri, ragazzi Che dobbiamo iniziare un nuovo mondo vanilla Lui era tutto contento In realtà è tutto uno scherzo Cioè, non è vero che dobbiamo iniziare un nuovo mondo vanilla No, povero, dai, che caperia Eh, che caperia hai detto, sì Perché la tua connessione è fatta veramente... Che caperia, no Sì, la connessione purtroppo fa crack, croc, croc Proprio così fa la connessione di nonno Adesso però gli dobbiamo fare gli scherzetti E ho anche, guarda un po' qua Oh, no, no, ho sbagliato Ho anche, ho detto, guarda un po' qua, troll E adesso posso farlo tipo... Magicalista L'ho intrappolato Uh, 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 uh Che cosa succederà mai? Eh, sì Ma è difficile, forse è difficile Non so, cioè, mi sembra Si è accorto dopo un po' Ma lui tranquillo Lui continua a scavare Sì, sì, sì Tanto, non è che gli è spawnato 20.000 cose sotto No, 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 tranquillamente No, tranquillo Vabbè, è contento lui Insomma, ragazzi Possiamo anche... Che sta facendo con i lupi? Voleva Facciamo i lupi Sì, probabilmente, sì Gli piacciono i lupi Gli vuole leccare tutti quanti, eh? È un fettice Sì, ma stai scherzando? Cioè, non puoi dire ste robe nei miei video, sai? No, vabbè, non è nulla Non è nulla, dai Non puoi comunque Ti devo denunciare Oh, come? Ah, sta andando in miniera Oh, ho trovato una mineshaft Una cave, esatto Una mineshaft cave Una mineshaftona Perché praticamente Adesso deve fare la vaniglia Lui la sta facendo E tutto quanto fogato Perché dice Oh, che bello Devo fare la vaniglia Però Io direi di fare anche Ah, direi di disguisarci Perché abbiamo anche il disguise Tipo, mi posso disguisare in un cat Oh, ti hai ragione Lo faccio Lo faccio subito Eh, però devo fare Cosa lo faccio? Devo prendere una cosa di mili Eh, non lo so Tu fallo tipo in un mini cat Ok? Che sarebbe il... Ma cosa? Se il mio figlio dopo Ok Ok Non, vabbè No, vabbè Slash di che No, non va No, attento Che devo Player Cosa devo fare Cat Non lo so Io non riesco di disguisarci Ok, mi sono sparato di nuovo Ok, ok No, fermo un attimo Prima dovevo capire come Allora Questo disguise però Perché deve sempre essere rotto Mamma mia Oh, allora Sle Ma infatti Allora Di Allora Se io faccio di nonno volante Io poi dopo sono nonno volante Vediamo se funziona così Eh no Come no È vero, no È proprio rotto Eh, scusa Allora Forse Dobbiamo cercare di capire ragazzi Perché è importante questa cosa Sennò poi dopo Non riusciamo a fare gli scherzi come si deve Eh, allora Slash di Allora Di Sguise E poi dopo Magari C'erano dei brutti messaggi In chat Che Che messaggi ci sono In chat No I messaggi rosso Dai Che cattiveria Ma c'è Gabri intrappolato Dai, no Poverino È colpa tua Ma no Non ho fatto nulla Dai Stai parlando troppo Tu comunque Come? Sì, stai parlando troppo Comunque sì, esatto Adesso però faccio il troll Ok? Uso troll Perché Almeno quello va Invece a differenza Di Ma stai zitto Se lo puoi vedere Ma sono qua praticamente Adesso faccio Troll Gabri Praticamente da questa parte E poi dopo cose che posso fare Che di per Oddio Oddio Ah che stupidino Prendiamo anche le torce nonno Perché No Ma lui fa finta di nulla Cosa vuol dire Finta di nulla No, non è vero È vero È vero Ma infatti secondo me Non è norma Cioè Oh porca miseria Sta vedendo la torcia Ma non dovrebbe capire Anzi metto così Perché in teoria così Non dovrebbe Esatto Non si vede la torcia così Molto bene Poi Oddio Faccio troll I ragazzi Sì, sì No, l'ho ucciso Ma è morto Peccato È scarso Esatto Comunque tu mi stai mettendo molta ansia Stai dicendo mini frasi E devi fare delle frasi più lunghe Più complesse Ok? Ok, va bene Stupido sciocchino E poi stai più calmo Mannaggia Perché sennò cosa mi metti ansia Sciocchino imbecillino Perché purtroppo qua siamo family friendly Quindi non posso dirti le peggio cose Ma sfidati che te le direi E come te le direi No Eh sì, 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 sì Va bene Allora adesso cerchiamo di capire Come fare qua con la situazione di Gabri Perché se no sta fermo Però io non posso fargli il troll Come anzi posso volare Guardate adesso posso Perché probabilmente lui si dovrebbe prendere Anche tipo il legno Dato che ormai non ha più niente Quindi Come si ferma Eh Cosa ho fatto? Mamma mia No picchia le pecore a mano Dai, poverina Mi fa anche soffrire Esatto Però gli ho fatto danno Gli ho fatto danno Vedi Sei spaventato Siamo riusciti a spaventarlo Sì, 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 sì Tu stai facendo versi inutili comunque Cioè ti devo denunciare Cioè non lo so che problemi hai Non mi denunciare per favore Devo chiamare la polizia Guarda che la chiamo eh No, no lo so Lo so Non ci ha fatto no E poi cosa gli dico alla polizia Cioè gli dico che Ti stai comportando male nel video dei Dunis È un reato Cioè Hai ragione Chiedo scusa Ma io vuoi veramente Non so come funzionano queste cose Vabbè Infatti si vede perché Vabbè Insomma Adesso faccio Spank Non so cosa io ho fatto in realtà E se sponassi un fulmine? Beh Potresti anche farlo Prova a farlo Prova a sponare Eh però non su di lui No, no, no Non su di lui Lo faccio su di lui Così si spaventa Ma come hai fatto a sponare il fulmine? Cioè stai magico? Eh Sì sono magico Io ho i poteri Hai i poteri Eccom'è Eh sì sì Ma io sto notando un attimo dai livelli audio Che qua sta succedendo una cosa un po' strano Tu prima urli Poi devo parlare di basso Perché questa cosa? Dai No non è vero Io sto parlando più o meno allo stesso livello Eh cerca di essere attenta Attenta A questa cosa Perché è importante no? Va bene va bene Ci farò nota Esatto Ci farai nota sì Comunque hai già perso tutto Perché Hai detto ci farò nota A livello bassissimo Eh no buona questa cosa No buona Ci farò nota Mentre lo dicevi proprio te sei già scordato Bene Dai Non è bravo Adesso però facciamo uno scherzo più Molto più Pese Metti lo scherzo anche No 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 quello magari dopo Aspetta un attimo Perché perché Forse Forse ha tipo Completamente rotto l'inventario Può essere Cioè Secondo me sì Perché si stava guardando in modo strano Tipo il bastone Si stava guardando il bastone Ha il bastone in mano Oh È pericoloso Ah per favore Dai non Cerchiamo di non sessualizzare questa cosa No scusa No no Non era mia intenzione Ma insomma Tua intenzione è un po' Una cosa un po' strana Cioè nel senso Ovviamente è sempre tua intenzione Scusa un attimo Ma dov'è lo shrank Che volevo metterlo Shrank Oddio Non lo so Non so come Drop Guardate quello è bellissimo Vale la pena aspettare ragazzi Perché Una cosa bellissima Se io Tipo dimmi Se lo trovi Tipo dimmi Il blocco che Cosa vuol dire è morto Non deve essere morto Mi è morta a casa No io ho dato tante patate Aspetta Adesso sta volando Sta volando Stai urlando Come una scrofa Per non dire qualcos'altro Guarda Ecco Allora Tu È un hacker Guardalo Come fa a volare Ma è andato in creativa No no Non è andato in creativa Gli ho dato io levitazione Ah ok Gli hai dato levitazione No perché se Se Gabri usava la creativa Quando era in vanilla Era la sua fine Cioè Non so se è chiaro Stai parlando basso di nuovo Ma sei deficiente Ma non è vero Non è vero Non è Ah ma la smetti di dirmi Che non è vero Quando io ti dico che è vero Quando ti dico una cosa È vero Non è che non è vero Cioè Non è che sono deficiente Cos'è Mi dico le cose Io intanto sto ancora Ah Eccolo qua Nonno guarda che Adesso ti piglio Oddio Non andarlo a vedere però No no Dai dove è TP Porca miseria Mi sa che lo scotteggia No non guarda Eh no che schifo L'ho dovuto fare Per forza Dovevo mostrarlo Ai ragazzi qua Per forza Non dovevi Per forza Era importante da vedere Una cosa di questo tipo Oh No 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 Fidati È molto importante come cosa Io qua sto cercando Intanto comunque È scomparso Per fortuna Meno mai No perché È una cosa leggermente brutta Quella che stava succedendo Vediamo un attimo Se riusciamo a trovare Anche magari Qualche altro troll da fare Tipo il Disguise Sarebbe anche divertente Nel prossimo video Non riesco a farlo Ci sarà anche il Disguise Ragazzi nel prossimo video Di troll Dateci un attimo Di tempismo Perché evidentemente Il tempismo È la cosa che non ci Agrada affatto Non so perché sto dicendo Queste cose Ma non Fate finta di niente Ah guardate qua C'è il Gabri signorino Gabri signorino Sì certo Ma se io tipo Gli tirassi le poison Tipo Le cose di Eh esatto Di veleno Adesso ti prendo E ti velenizzo Dove è finito? Perché avevi Del latte in mano? Ma perché Ovviamente serve Per togliere Le pozioni cattive Ma no Ma la smetti Di essere un pervertice Io veramente Ma cosa? No io intendevo Che potevi usare I comandi Effect clear No? Effect clear Di sto cavolo Certo come Come se non ti conoscesti Abbastanza Che non intendevi cose Dai vabbè Ma vai a quel paesucciolo Puzzone dm Allora Ma scusa? Cos'è che hai detto Ti devo vendere? No Mi devo offendere Devo vendere Ma cosa? Al mercato nero Cioè Non si dicono Queste cose Ma dai Oh sei visibile Attento Ti vede Ti vede Ti vede Porca puzzolona Schifosa No mi sto dando veleno Te lo do Ti aiuto io Guarda Ti lancio le cose Ok bene Grazie Grazie È proprio una cosa Da non fare Oh comunque Guarda Ma Oddio Ma che figata è Ma adesso si sta racchettando Ma cosa sta succedendo Guarda Puzzordona Ma lo voglio io Dai cos'è che era Cos'è che vuoi tu Scusa Lo volevo io quel coso Lì Che faceva coso Ah ok Il coso Si che faceva Poi soprattutto Il coso che faceva coso È magico Ma coso Ma Ops Ma sei stato tu Che l'hai ammazzato Non era mia intenzione Non era mia intenzione Io volevo prendere la tua roba Cioè quella che mi dice Hai fatto bene Se lo merita Perché No non è vero Non si deve permettere Di levitare Quando non Gli è richiesto Insomma Cioè no Quindi direi che hai fatto bene Con questo Coso Si conclude il nostro video Degli scherzi bellissimi Quindi Noi ci vediamo Al prossimo video ragazzi Ciao Ciao